Benvenuti su News per te! Oggi parliamo dell'intricato rapporto tra Albano e Loredana Leciso. Nonostante gli alti e bassi che hanno caratterizzato la loro storia, con l'ombra intermittente di Romina Power che si è stagliata nel corso degli anni, sembra che ora la coppia stia attraversando un periodo sereno. Tuttavia, l'assenza di Loredana al concerto Albano 4x20, organizzato per celebrare l'ottantesimo compleanno del cantante, ha scatenato una serie di chiacchiere e congetture. Ma entriamo nei dettagli. Rimani con noi per scoprire tutti i retroscena e iscriviti al canale. L'assenza di Loredana ha fatto sospettare una possibile crisi tra lei e Albano, soprattutto perché Romina Power era presente all'evento. Ma cosa c'è dietro tutto questo? Ecco cosa ci ha raccontato Loredana in una recente intervista a Chi. La showgirl ha spiegato che inizialmente aveva pianificato di partecipare al concerto, ma evidentemente qualcosa è cambiato nel frattempo. Albano aveva espresso il desiderio di avere tutta la sua famiglia, allargata e non. Aveva chiesto la mia presenza, in qualità di compagna, e quella dell'ex moglie, con la quale lavora ancora oggi in giro per il mondo. Ho accettato l'invito con piacere, ma dall'altra parte sono arrivate condizioni diverse. Io non ho posto alcun limite e, quando ho capito che le cose stavano andando nella direzione sbagliata, ho fatto un passo indietro per buonsenso, ma anche per l'amore e il rispetto che nutro nei confronti del papà dei miei figli. Lui sapeva perfettamente che non mi sarebbe costato nulla fare un passo indietro. Ha spiegato con discrezione il suo punto di vista aggiungendo di non aver manie di protagonismo, al contrario di quello che si possa pensare, e di essersi accontentata di festeggiarlo a casa con amici e parenti per ben due volte, lasciando tra le righe un messaggio, ben visibile all'ex moglie del suo compagno. E ora, cosa ne pensate di questa vicenda? Se questa storia vi ha intrigato, non dimenticate di lasciare un like e condividere le vostre opinioni nei commenti. E, naturalmente, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella per rimanere aggiornati sulle ultime notizie dal mondo del gossip.